Ciao a tutti per un nuovo video Allora, oggi siamo qui per girare il video dedicato agli sconti Einaudi Einaudi è la mia casa editrice preferita, come ben sapete, l'ho detto più e più volte e gli sconti per quanto riguarda questo inverno terminano il 20 di marzo quindi siamo ancora in tempo per occupare qualcosa e però volevo avvertirvi del fatto che questo sarà l'unico video che escirà sopra gli sconti Einaudi perché di solito facciamo anche la wishlist con il mini book haul ma per quest'anno ho deciso di non comprare niente e sono, ma vero, perché dei tantissimi libri che ho ancora in casa da leggere ce ne sono veramente una gran quantità in audio quindi non mi sembrava il caso direi quindi di far partire la sigla e ci vediamo subito dopo Eccoci qui e iniziamo subito prima di adesso vi vorrei parlarvi è un libro dedicato alla resistenza qui vi porto quindi una questione privata di Beppe Fenoglio perché ho scelto questo testo? perché è un testo sulla letteratura resistenza molto molto particolare e un po' inesuale allora abbiamo a che fare con un protagonista molto giovane Milton ha sui 20 anni, è uno studente però in questo momento sta facendo il partigiano appunto siamo nel 1944 e i partigiani italiani stanno provando a riconquistare il territorio ci troviamo sulle Langhe che appunto sono il teatro di tutta questa scena succede che sostanzialmente Milton si imbatte in casa di Fulvia Fulvia è stato il suo primo grande amore, è una donna che tuttora ama ma dopo cui si è allontanato che però appunto resiste ancora nel suo cuore ritrovare questa casa riaccende in qualche modo questo amore e soprattutto lo fa diventare estremamente geloso quando scopre che Fulvia in realtà sta con un'altra persona e questa persona in particolare è il suo migliore amico Giorgio quindi accevata questa gelosia parte dalla ricerca di Giorgio per confrontarsi con lui su questa donna e però si scopre che Giorgio è stato catturato dai fascisti perché dico che questo è un testo un po' particolare e che è un po' estraneo tutto il resto della letteratura dedicata alla resistenza italiana perché sostanzialmente appunto come riporta il testo non si parla specificamente e solo della parte politica ma si parla soprattutto dell'intimo dei partigiani in questo caso abbiamo l'intimo di Milton è la sua sfera privata che è la questione preeminente in questo testo sì ok seguiamo le sue vicende da partigiano seguiamo un piano politico, seguiamo un piano militare ma comunque il focus di questo testo di Peppe Fenoglio è sulla parte più intima di Milton ed è una cosa comunque particolare perché direi che è anche abbastanza un unicom di questo genere dedicarsi soltanto al proprio io la propria vita privata sarà quello che poi comunque porterà Milton al centro dell'azione e vedremo come pagherà in qualche modo questa scelta veniamo adesso al secondo testo e in questo caso vi parlo di L'uomo che trema di Andrea Pomella di cui metto l'immagine qui al lato perché l'ho letto in indizioni Kindle allora in questo caso vi porto un memoir che è firmato appunto da Andrea Pomella in cui si racconta la storia della sua depressione abbiamo a che fare con un racconto molto 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 franco di cosa significa essere depresso di come questa depressione diventi parte integrante dell'essere e della vita delle persone che attraversano un momento del genere parliamo soprattutto di come la depressione la persona depressa si interfaccia con la vita poi di tutti i giorni che comunque scorre avanti è sempre presente non c'è un momento per fermarsi a riflettere soltanto sulla depressione ma bisogna appunto farlo e contemporaneamente continuare a vivere infatti in questo testo c'è tutto il racconto del suo rapporto con la moglie Grazia c'è il racconto soprattutto di come si interfaccia con suo figlio che è piccolo Marco è un bambino di 7 anni non riesce bene a recepire cosa sta succedendo a suo padre e soprattutto è un racconto davvero lucido e molto molto pacato si entra in punta dei piedi nella vita di Andrea Pomella ma è lui stesso che ti apri quella porta ed è veramente un esercizio molto molto complicato perché normalmente su sistema è uno stigma è inutile negarlo rispetto alla depressione invece in questo caso ho trovato molto molto coraggioso Andrea Pomella e soprattutto è bene ogni tanto aprire lo squarcio sopra l'abisso e guardarci dentro per rendersi conto di come è davvero questo test è sicuramente un tentativo di autoanalisi rispetto appunto a quello che sta succedendo nella sua vita perché Andrea Pomella sta cercando ancora di capire cosa è successo cerca di interrogarsi su se stesso e soprattutto è un pochino alla ricerca delle cause che hanno scatenato tutto ciò anche se poi arriverà a una certa conclusione che vi lascio perché appunto è il finale di questo testo e sicuramente una figura molto importante con cui deve interfacciarsi e che deve affrontare è quella del padre è un testo come dicevo senza frondoli ben scritto si entra veramente nell'animo nell'intimo di questa persona e non ci si sente di troppo ecco questa non è una sensazione che ho provato ma anzi ho apprezzato tantissimo quello che ha scritto in questo testo come racconta di se stesso come racconta i suoi meccanismi mentali ecco è veramente stato un qualcosa da leggere per capire passiamo adesso al terzo testo e in particolare parliamo di un autore che è sicuramente altamente rappresentativo del catalogo in Audi e in qualche modo sicuramente è uno dei maggiori scrittori mai esistiti sto parlando di Philip Roth con il complotto contro l'America allora io non ho l'edizione in Audi ma vi raccomando di comprarla e in questo caso parliamo di Unucronia allora vi ho parlato molto spesso in realtà di questo genere letterario ve l'ho nominato nell'ultimo book tag che è l'ultimo video che è uscito sul canale e in particolare però oggi parliamo di quello che sicuramente è il maggiore esempio in materia e sicuramente quello scritto in maniera migliore perché Philip Roth ne ha tante caratteristiche nel livello di bravura ma sicuramente la scrittura è una delle migliori mai esistite allora in questo caso abbiamo a che fare con un determinato periodo storico siamo nel 1940 e il giovane Philip Roth è soltanto un bambino quando un eroe dell'aviazione molto conosciuto, molto apprezzato diventa presidente dell'America abbattendo alle elezioni di quell'anno Roosevelt allora appunto siamo di fronte a un ribattamento storico sconvolgente perché ovviamente vedremo Philip Roth e la famiglia Roth e tutta Newark alle prese con un evento del genere un evento così sconvolgente perché appunto porterà degli sconvolgimenti nella vita di queste persone è un testo ben scritto ben redatto si percepisce quel senso di paura che si respirava comunque anche in quegli anni anche se appunto non stava succedendo direttamente in America ma le notizie dalla Germania erano brutte ciò che colpisce particolarmente di questo testo è che in realtà è sì ambientato nel 1940 ma vi assicuro che durante la lettura troverete davvero tantissime connessioni con la realtà che stiamo vivendo io l'ho letto durante il periodo della presidenza Trump e devo dirvi che più di qualche brevidino mi è passato quindi sicuramente Philip Roth ha anche il grandissimo merito di scrivere una bella storia di scrivere in maniera perfetta come al solito ma anche di essere molto molto lucido su una realtà del genere su come questa in realtà poi appunto possa rivedersi è un testo dove sicuramente emerge grandissimo un senso di angoscia di smarrimento di paura per il futuro e ve lo consiglio tantissimo perché per quanto riguarda la mia classifica personale di Philip Roth questo è al secondo posto subito dopo Pastorale Americana quindi sicuramente è un gran biglietto da visita passiamo adesso al quarto e ultimo testo di cui è da parlarvi oggi e rimaniamo con la letteratura americana perché vi parlo di uno dei miei autori del cuore ossia David Foster Wallace in questo caso ho deciso di portarvi un testo molto particolare breve interviste con uomini schifosi di cui metto l'immagine qui al lato perché l'ho letto in edizione Kindle allora in questo caso abbiamo a che fare con un autore davvero particolare se avete letto l'altro di David Foster Wallace sicuramente sapete che il genere di autore è e in questo caso abbiamo di fronte a noi una sorta di esercizio di stile ma molto particolare e molto ben articolato come al solito era per David Foster Wallace in questo caso infatti abbiamo un'intervistatrice di cui non sappiamo i nomi di cui non sappiamo assolutamente nulla ma che percepiamo essere una donna che appunto ha le prese con dell'intervista degli uomini schifosi come riporta il titolo di questo testo che cosa succede? abbiamo a che fare con delle interviste dove questi uomini confessano tutti i loro peggiori peccati confessano che genere di persone abiette sono che genere di umanità orribile fuoriesce appunto da queste interviste ed è un testo che oltre ad essere composto comunque da queste interviste presenta anche dei racconti e tutta un'altra serie di contributi di David Foster Wallace ma sicuramente il testo che va menzionato più di tutti è racconto la persona depressa che appunto rimanendo un attimo in scia con quello di cui abbiamo parlato oggi è secondo me anche lì una delle violi trattazioni della depressione e David Foster Wallace ne soffriva quindi abbiamo il punto di vista di una persona che sicuramente ne sa attraverso la propria esperienza e che l'ha in qualche modo esorcizzata attraverso la scrittura quello che mi ha colpito tantissimo di questo testo ma in generale che mi colpisce sempre David Foster Wallace è che in qualche modo ti mette davanti dei testi che lasciano lo lettore smarrito la sensazione che si ha mentre si legge David Foster Wallace è sicuramente secondo me e per quanto riguarda me stessa come lettrice quello che me lo fa più adorare è il fatto che in qualche modo riesci sempre a metterti un pochino a disagio ma che ti fa sentire veramente smarrita io non so come spiegare benissimo questa sensazione ma mi dà sempre l'idea di mettermi davanti a qualcosa che mi fa riflettere ma che mi fa riflettere più che a livello proprio razionale a livello irrazionale è uno scrittore che in questo caso in particolare forse presenta dei difetti a livello di questo testo perché è un po' frenetico si perde un po' il filo del discorso è un po' schizofrenico perché ti porta da una parte all'altra hai sballotto la frattuessa intervista con questi uomini che insomma hanno fatto delle azioni veramente orribili si parla di chi usa la propria disabilità per portare a letto delle donne si parla di chi usa la propria depressione per far suicidare l'analista in qualche modo appunto abbiamo a che fare con tutte le persone più spreggevoli che possono venirvi nella testa ma in qualche modo deve far servo alla se riesce sempre a catturare l'attenzione ve lo consiglio caldamente ma come vi consigliare di recuperare tutta la biografia di questo autore allora per quanto riguarda oggi abbiamo finito qui vi ringrazio per essere stati insieme a me vi do un abbraccio e ci vediamo settimana prossima ciao ciao